La bontà della porchetta di Colledara è riconosciuta a livello locale ma non solo. Qui avete avuto un'idea importantissima. Intanto c'è una sagra che torna anche quest'anno, ma questa sagra è organizzata da tutti i maestri porchettai della zona che sono nove che hanno deciso di creare una filiera per organizzarsi meglio, per lavorare meglio. Ognuno con la propria azienda ma per questa occasione si mettono insieme. E da quando hanno fatto questa scelta le cose vanno meglio. Sì, negli ultimi anni la sagra sta riscuotendo un ottimo successo e anche quest'anno il 10, l'11, il 12 e il 13 agosto riproporremo questo evento che ormai credo che sia diventando un momento clou dell'estate terramana. La particolarità della vostra porchetta qual è? Io ritengo che la particolarità sia la semplicità del prodotto. Quindi fa apprezzare la bontà della materia prima utilizzata. I maestri porchettai non si definiscono maestri a caso. Non sono, diciamo così, riducendo un po' il tutto a semplici macellai che macellano il maiale e poi ovviamente lo preparano in base a quelle che sono le regole, le caratteristiche della porchetta. Loro vanno oltre. Sì, ormai è una tradizione che va avanti in alcuni casi da oltre 50 anni. Quindi ormai ci sono delle regole, delle consuetudine che ritengo siano particolari proprio nel nostro territorio. e spesso veniamo premiati, come forse qualcuno saprà, anche al di fuori del nostro territorio comunale. Soprattutto a Campi, e questa è veramente una questione di orgoglio per voi. Sì, sono. Altra patria della porchetta. Sono molto contento perché, ripeto, ritengo che sia un prodotto molto valido che con l'aiuto anche dell'amministrazione dobbiamo cercare di promuovere al di fuori dei confini locali perché è un prodotto che possa essere commercializzato in qualsiasi parte del territorio italiano. E poi c'è anche un'altra iniziativa che portano avanti, questa costantemente tutto l'anno, i maestri porchettai della zona, ovvero la domenica sono presenti a San Gabriele della Dolorata che è davvero a due passi da voi. Sì, nessuno sa che, o forse in pochi sanno che parte del santuario di San Gabriele insiste sul territorio di Colledara. I nostri artigiani sono lì presenti tutto l'anno, tutte le domeniche e anche molti sabato a vendere il nostro prodotto. Quindi utilizziamo allo scopo promozionale anche questa intervista per dire venite a San Gabriele durante tutto l'anno e sicuramente assaggerete una delle porchette più buone d'Abruzzo. Sindaco, quante persone vi aspettate per la sagra che sta arrivando? Io penso almeno un 5.000 persone, sicuramente nella serata clou, però diciamo che riusciamo a mantenere questa media un po' in tutte le serate. Antenucci e Adriano, d'Alberto Peppino e figli dei Sanctis e Gianni, di Gennaro, Marco e Piero, di Stefano Lucio, Mercuri, Gianpaolo, Mercuri, Gianni e Daniele, Mercuri, Nicolino e Manuela e Pallotta, Gentilino e Mauro. Sono i nove maestri della porchetta di Colledara. Perché avete deciso di mettervi insieme per organizzare manifestazioni importanti come la sagra della porchetta di Colledara? Niente, ci siamo messi insieme pure per fare meno concorrenza, per dare il nostro prodotto in tutto Abruzzo, far vedere la nostra qualità e il nostro sapore Colledara è il numero uno. Voi siete l'esempio che l'Unione fa la forza, perché state crescendo nel tempo grazie anche a questa novità che avete portato su questo territorio. Sicuramente, l'Unione fa sempre la forza, non farsi concorrenza è la cosa migliore nel commercio, andare d'accordo e felici, perché se no il commercio finisce. Avete creato un marchio, state tutti sotto questo marchio, però va chiarito e ricordato che siete ditte singole. Sì, noi siamo tutti ditte singole, però il marchio che noi abbiamo fatto, sulle buste, sulla carta, c'è solamente maestri della porchetta senza nome di nessuno, per non fare pubblicità personale. La pubblicità nostra è per tutti quanti. Lei è il presidente dei maestri della porchetta di Colledara. Noi cerchiamo di strapparle qualche segreto. Perché è così buona la vostra porchetta? Sì, io sono il presidente pure perché sono il più anziano, impegno di più per portare avanti questi ragazzi, ma il segreto, l'unico segreto nostro è che usiamo, soprattutto usiamo, perché noi non facciamo concorrenza ai nostri concorrenti, lo facciamo col prodotto. Noi abbiamo prodotto italiano, anzi prodotto terramano, prodotto di allevatore, terramani, e come si può dire, al consumatore e al produttore. I segreti e la cottura, noi facciamo una porchetta più cotta degli altri. E me ne mando, me ne mando perché la nostra porchetta le puoi mangiare quanto ti pare, sicuramente, e sapori pepe, aglio, pochi, giusto per dargli quel tocco magico. È una porchetta più semplice, vero? Sì, semplicissima, semplicissima. Però io sono sempre convinto che la cottura fa la qualità. Nicolino Mercuri è uno dei porchettai che di premi ne ha vinti tanti. Sì, qualche premio l'ho vinto, diciamo. È una grande soddisfazione, immagino? Sicuramente sì. Ci sono delle gare dove fondamentalmente è un gioco per noi, però vincere è divertente. Anche perché quando si vince una gara, amare qualcuno a trovare il vincitore, ci viene anche solo per curiosità e per assaggiare quella che è stata la porchetta regina, magari di una manifestazione. Beh, sì. Anche un po' di pubblicità. Certamente. Diciamo fondamentalmente è solo quello. È un po' di sfotto tra di noi che magari c'è un po' di competizione, una sana competizione tra di noi che ci porta anche a scherzarci sopra e vivere anche un po' così. Però sì, è divertente. Perché si decide di diventare un porchettaio? È una tradizione di famiglia oppure è una tradizione del luogo dove si nasce e inevitabilmente si segue? Allora, io ci sono nato. Cioè, la porchetta la faceva mio nonno, quindi circa 75 anni fa. E poi da padre in figlio abbiamo sempre continuato. Non mi riesco ad immaginare in un altro lavoro, perché da quando avevo 5-6 anni stavo sul furgone con mio padre ad aiutarlo all'epoca, insomma. Quindi ci si nasce. Noi che la porchetta la mangiamo e ci piace pure, magari non riusciamo ad immaginare cosa c'è dietro poi il prodotto finito. Quante ore di lavoro ci sono? Più di quello che uno immagina, probabilmente. Perché il nostro è un prodotto artigianale, dove facciamo praticamente il 99% della preparazione, tutto noi, e poi anche la vendita. Quindi c'è da distossare, condire, cuocere, e poi la mattina andare a vendere, mattino poveriggio. E quindi tantissime ore. Una sorta di doppio lavoro, perché c'è la parte della preparazione, quella della cucina, diciamo così, e poi anche quella della vendita. Sì, io penso che sicuramente se non ci nasci non faresti questo lavoro, perché l'impegno che ti porta, se non lo vivi da piccolo, penso che molti abbandonerebbero. Quindi noi che continuiamo siamo fortissimi. Lucio Di Stefano è un altro maestro porchettaio, ma la vera forza di questi maestri porchettai sono la moglie, come nel caso suo, e la vediamo qui, le sorelle, insomma, le donne hanno un ruolo importante anche dietro il vostro lavoro. Sì, sì, infatti, sul mio furgone c'è scritto Lucio Di Stefano, ma chi lavora è Maria Teresa. Mi dà una bella mano, è lei quella che fa quasi tutto al laboratorio, perché io stando fuori a contatto con la gente, oppure per vendere i nostri prodotti, lei sta dietro e prepara la porchetta, i polli, tutto quello che abbiamo sul furgone. Comunque è una sorta di maestra porchettaria. Sì, di maestra, grazie. Sì, sì, si collabora, una collaboratrice. Tutto, essendo a conduzione familiare, non c'è niente di industriale, quindi i prodotti vengono fatti giornalmente e quindi tutti i prodotti sono freschi e genuini. Ecco, siamo a proposito di genuinità e il lavoro che si fa anche dietro ad una sagra. Siamo a pochi giorni, insomma, 8-9 giorni dall'inizio di questa sagra. E voi mi spiegavate che non state facendo nulla, perché la porchetta va preparata giorno per giorno. Sì, sì, giorno per giorno viene preparata. E poi viene, deve stare un po' a riposo e poi viene cotta. Un bel 6 ore di cottura ed è pronta la porchetta. E poi c'è un grande lavoro anche poi nella vendita, perché non solo cominciate presto, non solo lavorate tutto il giorno per preparare la porchetta, però poi fate serate intere, soprattutto durante le sagre, anche nottate intere per venderla. Per noi è soddisfazione presentare i propri prodotti e avere la gente che apprezza, che tornano per la seconda volta o più volte e ti ringraziano e hanno gradito il prodotto. E la soddisfazione più grande è il pubblico. Il pubblico che noi abbiamo giornalmente, mensilmente e anche anno per anno, che prendono le ferie giusto per questa manifestazione. Voi ci insegnate che la porchetta, sì, è ovviamente il prodotto principe, ma anche il panino fa la differenza e fa la sua parte. In base a cosa scegliete il panino? Il panino deve essere croccante fuori e morbido dentro. Deve essere leggero. E senza un buon panino non abbiamo un buon risultato. La porchetta fa la differenza, perché deve essere calda, succosa, buona e gradevole. E la vostra lo è, la vostra lo è. E ci sono anche delle varianti. Non fate solo il panino tradizionale con la porchetta, ma ci sono anche delle varianti. Sì, alcune volte aggiungiamo peperoni, si può aggiungere... Possiamo farla anche dentro la scarapiccia, diciamo. la pizza bianca. E anche quella molto buona. Con pomodoro insalata ed è fantastica. Un po' di peperoncino, qualche volta, e un po' di gelatina. E facciamo un nuovo piatto, diciamo, per i giovani che non amano il classico panino. Anche le erbe aromatiche si usano per la preparazione della porchetta, ma la vostra ha una caratteristica che ne ha davvero poche, giusto lo stretto indispensabile. Esatto, sì. Mettiamo pochi aromi, una semplicità, insomma. Cerchiamo più che altro d'erbe aromatiche, cerchiamo proprio la materia prima di essere già come si deve. Proprio così, semplice, semplice, la semplicità. Ci dicevano che la differenza vera la fa la cottura, una porchetta che ha una cottura lunga. Eh sì, molta differenza questa. Ma dove stanno tutti questi laboratori in un piccolo centro come il vostro, dove poter tirar fuori veramente decine e decine di porchetti tutti i giorni, soprattutto durante la Sagra? Sì, diciamo, noi ogni ditta, diciamo, ogni artigiano abbiamo proprio il nostro proprio laboratorio. Praticamente, diciamo, la lavorazione è sempre uguale, sempre uguale per noi, per noi di Collelarra. niente, niente di che la semplicità della zomma è quella che conta. Quanto è importante aver creato questo marchio? Vi ha fatto la differenza nel tempo? Beh, sì, diciamo, certo, come la differenza l'ha fatto, dobbiamo ringraziare i nostri antenati di queste cose che ci ha trasmesso questi valori, insomma, perché non è una cosa che puoi imparare al di fuori se non sei dentro questa cosa, insomma, ne vedo. È una tradizione, nella maggior parte dei casi, una tradizione di famiglia? È una tradizione antica. Qual è la parte più richiesta della porchetta? Allora, diciamo che la parte più richiesta è sempre la parte della pancetta, dove c'è quel filetto di grasso che a molti dà gusto sentirla nel palato. Quindi, la maggior parte del genere non ci chiede altro la pancetta o la pancetta. E per noi è un guaio quando si arriva alla zona più magra, sarebbe la parte del prosciutto che rimane molto più stopposa, specialmente se la porchetta è ben cotta. I mangiatori di porchetta si dividono in due categorie, quelli che vogliono la crosta e quelli che la crosta non la vogliono. Sì, è vero, ci sono anche quelli che la crosta non gli piace sentirla sotto il panino. A mio avviso sbagliano. Sì, però la maggior parte chiedono la crosta. Addirittura, qualcuno, l'assurdo, chiede la crosta anche sul panino col tacchino. Questa mi sembra una bella variante. Sì, una bella variante. Tacchino è crosta di porchetta. Diciamo che della porchetta non si butta quasi nulla come nella tradizione del maiale perché anche la testa che ovviamente rimane perché non viene venduta ha il suo perché. Sì, ha il suo perché perché lì c'è la parte pure buona. Come dicono tanti, è il grasso. No, no, c'è la maggior parte della crosta buona e poi c'è anche la parte del magro che è buonissima perché è la parte più tenera. Rimane molto tenera perché lì c'è l'accumulo del grasso vero e proprio. E voi riuscite ad accontentare con una porchetta sempre le esigenze di tutti? È molto difficile accontentare tutti però cerchiamo sempre di andare incontro alle esigenze delle persone. Daniele Mercuri intanto è il figlio del presidente dei maestri della porchetta di Colledaro dunque inutile sottolineare il fatto che la vostra è veramente una tradizione di famiglia. una tradizione abbastanza lunga tramandata da padre in figlio dai miei nonni bisnonni sono quattro generazioni che andiamo andiamo avanti nella nostra attività. Al di là dell'attività ma a voi la porchetta vi piace? Beh abbastanza Non vi stufate? No mai io tutti i giorni la mangio e quindi la consiglio a tutti cioè naturalmente è buonissima è croccante sempre calda e questo è. Ma sfatato un mito è un luogo comune la porchetta non è grassa in tutte le sue parti ci sono delle parti che se mangiate solo quelle ovviamente sempre carne di maiale ma sono magre Certo naturalmente ci sono punti diciamo tipo la parte della spalla e la parte magra ed è allo stesso tempo tenera invece se prendi la parte del capocollo rimane un pochettino più grassa e tenera allo stesso modo e la pancetta sempre tenera un pochettino grassa è magro misto poi c'è il prosciutto un pochettino più soppaccioso perché il grasso ce n'è talmente poco e quindi è magro ed è soppaccioso un pochettino solo quello Al di là delle vostre capacità al di là della vostra bravura della vostra tradizione fa la differenza il tipo di animale cioè qualche volta magari capita un animale che non ha determinate caratteristiche rispetto ad altri al di là della bravura della cottura dei segreti che avete per renderla così buona anche l'animale a volte può fare la differenza può fare la differenza però noi utilizziamo determinate selezioni in modo da mantenere un certo standard per portare sempre un determinato prodotto all'avanguardia in tutti i luoghi dove andiamo capita raramente che noi abbiamo proprio roba non se vediamo che non non si può vendere non la portiamo al mercato dove andiamo a disporci solo quello ci tolga una curiosità noi che dobbiamo andare a comprare la porchetta ci dobbiamo fidare di più di una porchetta un po' più piccola o di quelle più grandi ma là non c'è differenza piccola o grande perché alla fine la cottura è uguale le ore di cottura sono le stesse non cambia niente un maiale adulto è meglio comprarlo perché è più formato e per i maestri della porchetta di Colledara il momento più importante è ovviamente la sagra della porchetta di Colledara che parte il 10 di agosto 10, 11, 12 e 13 venerdì, sabato, domenica e lunedì e lì di gente ne vedete parecchi sì abbastanza abbastanza scusa una cosa ma te l'hanno detto il nostro slogan quello non me l'hanno detto ma facciamo in tempo a dirlo ma sì scusa veramente nessuno ha detto lo slogan calla call signocca oppure calla call in generale questo lo so veramente il nostro slogan è questo ormai ci invita per strada tu sei quello calla calla la cosa bella che ho detto calla che 40 anni che faccio sto mestiere lo dico da 40 anni bastato un minuto di televisione tutti quanti calla calla quindi calla calla a tutti venite alla sagra della porchetta ci vediamo tra pochi giorni diciamo dai porchetta di pallonare calla calla che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è